Ciao, ti pare che non è calmo? Ah, qua mamma è un video! Tira via cappuccio! Non vedrai! No, non può se ce l'hai vista. 5, 4... Ah, se mettono il video o la foto? La foto! Mandami un bacio! E il video? Che cosa ti stai pensando? Maicon! Ehi! Ciao, bellissimi! Eh no, aspetta, devi dirlo che sei fermo. Ecco, adesso... Ciao, bellissimi! Sistemati la frangetta che sei briculatone. Sono bellissimo come lì. Buonasera, tutto bene! Saluto, Antonio! Saluto, Antonio! Saluto, Antonio! Non so... Ma non Giulio è un bravo. E io non ho messo la cosa. Ah, no, no. Ma bastava che me lo dicevi la figlia. Cioè, ma... Eh, eh... Mirko, non lo metti su tegua, eh? No, su YouTube. No, ma che cazzo stai facendo? No, no, non voglio quando il Mirko... Non voglio se mi vedano. Hai capito? Non guardartela! Ma la stai facendo. No, Mirko, non voglio. Come l'altra volta... Sta facendo! Il video stiano da Antonio! No, poi gli altri pensano che io vengono... Che vengono via con te. Hai capito? Eh, allora... Che vengono, eh? Che vengono! Che vengono! No, no, no... No, no, no... No, no, no... Ma che schifo!